Buongiorno popolo di youtube e benvenuti sul canale Tanden. Oggi facciamo un video in collaborazione con Funko Maniaci. Sì, che è una pagina Facebook che si rivolge a tutto il pubblico che ama i Funko Pop. Tutto il popolo vario e variegato. Ma che cosa consiste questo video collaborazione contest, chiamiamolo così. Chiamiamolo così, allora. Oggi facciamo un video in cui parliamo dei Funko Pop che vorremmo ma che non esistono. La collaborazione consiste in questo. Praticamente nel post che troverete pubblicato sulla pagina di Funko Maniaci dovrete scrivere il vostro Funko Pop che vorreste ma non esiste. E in più per poter essere sorteggiati per questo nuovo giveaway dovrete essere iscriviti sia a Funko Maniaci, quindi cliccare like sulla loro pagina, sia sulla pagina youtube di Tanden. Quindi ricapitolando molto velocemente, like alla pagina Funko Maniaci, iscrizione alla pagina youtube di Tanden e iscrivete sotto il post della pagina Funko Maniaci il pop che vorreste ma che non esiste. Sigla. Ehi, benvenuto su che non è tanti. Cominciamo con i nostri 5 Funko Pop che vorremmo ma non esistono, quindi 5 testa, comincio io. Prego, vada pure. Comincio io e dal mondo della musica chi di voi non ha mai amato questo personaggio che sto per dire, almeno a me mi ha accompagnato nel periodo in cui stavo crescendo, quando ero un piccolo bambino tenero, da quando ho ascoltato i Doors con Jim Morrison poi da lì la mia, diciamo la mia pubertà è esplosa. Quindi parliamo di Jim Morrison, il grande re lucertola, così veniva chiamato. Sì, 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 non lo sapevo. Però in quale versione, perché nonostante abbia fatto pochissimi anni proprio nella sua carriera, dopo purtroppo è deciduto almeno così si pensa, io lo vorrei vestito tutto di palle nera. Tutto di palle nera. E mi è lasciato bene con tutto, soprattutto a PC Cos. E quindi lo vorrei nella sua mise tutto bandato di palle nera, mentre magari è lì che canta e si struscia contro il microfono. Quindi Jim Morrison è il mio primo Funko Pop che vorrei, ma non esiste. Il primo Funko Pop che vorrei io e che non esiste è un pop di un personaggio storico, ormai possiamo definirlo così, e sto parlando di Neil Armstrong. Quindi stiamo parlando di un astronauta. Bello, cavolo. Però è bello che c'è. Un po' di suolo lunare, l'omino vestito appunto d'astronauta con l'impronta. Bellissimo. C'è da dire una cosa, ecco, tutti quelli che diranno sulla luna non ci siamo andati, al di là di come io la posso pensare, a riguardo non importa, sarebbe comunque un pop carino e affascinante. Bello, a me piace questa cosa dell'impronta, bravo. Bello, con un po' di suolo, anche la bandierina. Soprattutto sarebbe bello se ci fosse proprio il terreno della luna. Quello vero, quello vero. 30 grammi di suolo lunare così. 800.000 dollari di pop. Ma andiamo avanti. Avanti, prego. Come seconda mia scelta, in questo caso, dal mondo dei videogiochi, ho tirato fuori un personaggio che ovviamente tutti i maschietti non possono non ricordare. Sto parlando di Lara Croft. Vabbè, eh sì. Lara Croft, che con il suo Tomb Raider, quando è uscito alla fine degli anni 90, era almeno anticativamente. Metà? No, forse alla metà. Sì, 96 più o meno. Suoi da neri, insomma, 20. Quindi ormai 20 anni fa, veramente aveva stupito tutti. Primo perché il gioco era fantastico, c'erano enigmi da scoprire, i primi blocchi 3D con la Playstation 1. E poi perché con questi... Due grossi pixel. Sì, e poi con queste grandissime tette a punta, veramente ha fatto impazzire tanti ragazzini dell'epoca. Io ormai ero già uscito da quella cosa, però mi faceva impazzire lo stesso. Eh, veramente tanta roba. Quindi Lara Croft, soprattutto nella sua versione classica. Quindi con le due pistole di fianco, il body con queste due minnone incredibili e pantaloncini corti. Lara Croft, come siamo abituati a concepirla, a pensarla e a immaginarla. Quindi vai, tocca a me, tocca a te. Il prossimo personaggio che ho voluto scegliere è quello di Obama. Ah, il grande e mitico Presidente Obama ormai... Oggi ti sto dicendo troppe volte bravo. È uscente Presidente degli Stati Uniti perché mi sono detto esiste il personaggio di Donald Trump perché non dovrebbero fare quello di Obama. Esiste anche quello di Hillary Clinton perché non c'è quello di Obama. Ho controllato, esistono delle versioni di Obama ma non del Funko Pop. Sì, sono customizzate, possono pensare altre. Quindi Obama, magari anche di Michelle insieme per mano. Mentre se ne vanno dalla casa mia. Come terzo Funko Pop ho voluto pescare dalla storia. Di personaggi storici ce ne sono veramente tantissimi. Però uno, vabbè, dei più iconici. Hai indovinato? No, magari hai sbagliato. Stai attento e... Stai attento perché ne lo sto per dire. Sto parlando di Napoleone. Napoleone con il suo cappello, la mano sotto la sua giacca. Perché secondo me... Cavallo Bianco. Cavallo Bianco di Napoleone, sì. C'è capito. E Cavallo Bianco potrebbe essere una versione Wright. Al posto che con la macchina farò quel cavallo. Però no, in questo caso proprio Napoleone imposa così. Ah, bello. Molto iconico. Guarda, vorrei aprire una parentesi. Ah, è il momento. È il momento della parentesi. Abbiamo già parlato in altre puntate dei Funko Pop che vorrei, ma non esistono di personaggi che avremmo voluto. E la Funko li ha prodotti. Incredibile. Vogliamo ricordare quali? Per esempio, per esempio, mi viene i menti nella Gios. Io volevo i menti nella Gios e l'hanno fatto veramente. E ci ascoltano, ci guardano. Esatto. Non so, speriamo. Io ho parlato di Guns N'Roses, in particolar modo di Slash. E guarda un po'. Puff. Cioè, li hanno fatti tutti i Guns. Cioè, manca qualche d'uno. Hanno fatto Guns N'Roses, Slash e... Duff. Duff. Ho scelto un altro personaggio storico e questa volta sto parlando di un grande fisico che è vissuto nel secolo scorso e che ha rivoluzionato ogni concetto possibile, immaginabile, appunto, della fisica che noi conosciamo e di quella... Questo me l'hai rubato perché volevo dirlo io. E di quella più complessa e complicata. Parliamo della fisica cantistica. Cosa? Fisica cantistica. Fisica cantistica. Fisica cantistica. La fisica cantistica. Sto parlando di Albert Einstein. Eh, questo dobbiamo dire che ce lo siamo conteso. Esatto. Ero lì che stavo cercando informazioni più specifiche su di lui per evitare di fare qualche gaffa e lui ha detto, no, l'ho scelta anch'io. Eh, però, come vedete, prima di realizzare il video, ovviamente ci confrontiamo su quelli che possono essere i pop e questo, tac, era entrato nella classifica, nella cinquina. Nella cinquina. Sarebbe terino comunque. Ma questo sarebbe veramente fighissimo. Sarebbe veramente top. La linea dei pop... Poi era la lavagna, sai? Il pop alla lavagna. Anche sì, quella lavagna. Sì, guarda, infatti sarebbe veramente bello se facessero una linea proprio dei pop stop. colori città. Sì, sì. Quindi fanco, prendi nota. Ascoltaci. Il prossimo che ho scelto arriva da un cartone animato perché ho voluto proprio prendere questa branchia. Branchia? No. È una branchia quella dei pesci. Il prossimo che ho scelto l'ho scelto dai cartoni animati che mi sono piaciuti di più e in questo caso sto parlando di lui, del mitico pescatore Sanpei. Pescatore, grandi orecchie a sventola. Molto, molto grosse. Sì, poi soprattutto sarebbe bello se lo rappresentassero nella sua camminata, gambe larghe, così. E qua... Il quarto personaggio che ho scelto è appartenente al mondo dei motori e delle quattro ruote, più specificatamente. Sto parlando di Ken Block. Tu sai chi è Ken Block? No. Così non sa chi è Ken Block, quindi... Ragazzi, perdonatemi, ma io l'unico block che conosco è l'Ispettore Block di Dylan Dover. No, non c'entra niente, quindi Ken Block è appunto un pilota, un grande anche imprenditore ed è diventato famoso per una serie di motivi e anche e soprattutto per la Gymkhana, che è una disciplina automobilistica, dove in sostanza devi fare tante derapate, tanto fumo e andare a manetta. Guarda, mi ha incuriosito, andrò a vedere i video e ovviamente ci saranno miliardi di visite, io però non hai mai visto. Dopo guardiamo, quindi quarta mia scelta, Ken Block è magari con la sua macchina, sfumeggiante. Va bene. Come ultimo Funko Pop che vorrei ma non esiste, sono andato a pescare nel cinema muto degli anni... Non da Blanchia. No, non da Blanchia. E ho pescato Charlie Chaplin, però nella versione Charlotte, quindi con la bombetta, con il bastone, i pantaloni, quindi come lo immaginate e come lo avete sempre visto. E penso che veramente possa essere molto molto bello, soprattutto se poi fatto in una versione black and white. L'ultimo personaggio che ho scelto viene da un cartone animato che guardavo spessissimo da bambine e che sono sicuri tutti voi, almeno una volta nella vita, avete visto, te compreso, sto parlando del corpo umano. Ah, sì. E quindi mi piacerebbe un sacco come Funko Pop... Polmone. Eh, la prostata. Fa anche un po' la forma di prostata. No, scherzo. Il personaggio barbuto, il vecchio... Ah, il donno. Il saggio. Il saggio, il vecchio saggio. Quello con la barba ronga fino ai piedi. Un penno capelli a quel punto si va a mischiare tutto. Stare bene. Figo comunque. Sì, bravo. Un'ottima idea. Hai visto? Nel progetto taglia lì cosa mi ero in mente. Complimenti, complimenti. Ok. Siamo giunti alla conclusione di questo video dedicato ai Funko Pop che vorremmo ma non esistono, 5 per 1. 5 per 1 e quindi ricordiamo che questo è un video legato soprattutto al giveaway contest che faremo in collaborazione con la pagina Funko Maniaci. Ripetiamo per l'ennesima volta le istruzioni? Sì. Allora, le istruzioni sono le seguenti. Dovete andare a scrivere il vostro Funko Pop che vorreste ma non esiste sul post che è stato pubblicato sulla pagina Facebook Funko Maniaci. Esatto. Fatto questo, per partecipare all'estrazione dovete mettere mi piace alla pagina Funko Maniaci e poi iscrivervi al nostro canale Tandem. Che è il canale YouTube che è facile da capire. Quindi, se state vedendo il video, iscrivetevi qua sotto. Qua sotto. Era tutto per questo video dedicato diciamo a queste fantasie che noi abbiamo. Queste fantasie riguardo ai pop e quindi direi che il contest può avere inizio e che vinca il migliore, quello col più culo. Insomma, un saluto da Gabriele. E un saluto da Stefano. Ciao figa cantistica.